Ehi Ferinichi, ti vedo un po' fiacca, da quanto è che non ti alleni? 15 anni Ecco, perché non passi all'ora in palestra oggi ad allenarti un po'? No, guarda un impegno importantissimo, mi dispiace Ah che cosa? Devo guardare i film su Netflix e mangiare dolci tutto il giorno Vieni in palestra o te ne pentirai E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef, questo giochino è Fat No More E oggi vestiremo i panni di due fenomenali personal trainer E aiuteremo le persone a tornare in forma Esattamente, non so dove abbiamo trovato questo giochino Ma è davvero carino, non è di quelli brutti, precisiamo subito Questo è bello, questo è bello E divertente, fatto bene E il nostro lavoro sarà appunto quello di fare il personal trainer Partiamo subito, che tanto è facile facile da capire E lo capirete subito Allora, qua noi vediamo praticamente la persona Questo si chiama Rick Griffin Ok, ciao Rick Ciao Rick, come stai? Bene? Sì I suoi obiettivi sono Cardio, arrivare a 12 ed è a 11 Muscoli, arrivare a 12 ed è a 11 E perdere un chilo Ok, vedi Ma non hai bisogno tu della palestra, sei messo benissimo Insomma, ma non hai proprio messo bene Per farlo noi abbiamo i workout che sono gli allenamenti La dieta e poi i gadgets Che credo siano dei regali Io non so come Ma ho capito cosa sono Praticamente tu ti alleni, fai la dieta e poi ti danno anche il regalo Mi sembra giusto Ah, per motivarti? Se il personal trainer Diciamo serio Qua tra i due Perché tanto ti conosco bene Guarda crasterissimo Ok, allora Abbiamo quindi da fare cardio Muscoli e fat Che sarebbe proprio per togliere i grassi Ok Partiamo dai cardio Ok Vuoi farli fare corsa o ciclette? Corsa Ok Ah, ma lo devi fare tu? Certo Oh mio Dio è picchissima Capito? Praticamente in questo caso Li devo cliccare tutto il tempo così E far evitare a lui di stare sul rosso Quando va sul rosso perde Così faccio allenamento anche io Ok, vai imitalo Lo vorrei anch'io Qualcuno che corre per me Quando vado in palestra Capito? Che mi fa correre Io sto ferma Ma i tuoi muscoli comunque si stancherebbero Eh, ma io non corro Quindi l'importante è non fare nulla per me Ok, va bene, va bene Abbiamo perso 4 di cardio Lui ne voleva soltanto uno E in realtà ne abbiamo fatto di tour a 4 E ho aperto una pubblicità Bene così Un singolo peso o due? Due Ok, vai Questo non ho idea di come funzioni Eh, neanch'io Quindi mi interessa Ah, ok Ah, devo Oh, aspetta Ah, devi seguire, capito? Tipo Just Dance? Esatto Verde Allora, aspetta Rosa Io non ci sto capendo nulla Tutti e due Ok Tutti e due Ok, giù Destra, giù Tutti e due su Giù Giù Sinistra, destra Tutti e due Nullo Destra, sinistra, sinistra Ma Ma Se fosse così figo Allenarsi lo farei tutti i giorni Ma ci puoi contare È divertentissimo Non ha figata Vai, sono pronto Ancora, ancora, ancora Destra Su Non capisco Oh mamma mia Non capisco nulla No È troppo forte adesso Capito? Guarda Le abbiamo fatto 6 Mi sa che Lui ci stava chiedendo uno Anche di questo E gli abbiamo fatto di tour a 6 Perché noi siamo super professionali Voleva arrivare a 12 secondi Ma ti ha 17 Cioè scusami Rick È sempre meglio tenersi anche di più in forma Dai Il personal trainer può chiedere la mancia? Non credo È perché ce la meritiamo Stiamo facendo un sacco di extra Un po' di extra Guarda Rick Almeno consigliaci a tutti i familiari Amici Nipoti Parenti Cugini Gatto Pro nipoti Barbabietole Quello che vuoi Però consigliaci a un sacco di gente Che ci servono clienti Tu sei il primo Sei venuto così a caso Allora vai Ultimo allenamento Salto della corda Oppure questo credo siano Le gomme giganti delle macchine Che tipo devi ribaltare tutto il tempo Dici Secondo me sì A me sembrava dello scotch Vabbè facciamo lo scotch vai Perché non so cos'è lo voglio vedere Ma non è uno scotch Ma dai Sì sembra uno scotch Guarda vedi Ah ecco ho capito Ho capito Sì 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 Tap the correct side E come facciamo a capire quello giusto? Ah ok Stile piano tiles Ta 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 Tutti li devi toccare Capito? Ah Così Ok Ma allora è facile Eh non capisco nulla Sei troppo veloce È facilissimo per te Ho sbagliato Ok Ok Hai fatto un buco in terra Però ha perso quattro di peso Ne voleva perdere solo uno E guarda Guarda che fisicaccio Io mi sto stancando solo a guardarli questi esercizi Sì Te lo dico Ho già il piattone Sì Sì Livello 2 abbiamo fatto E c'è pure il prima e dopo Ma stava meglio prima Io te lo dico Ma perché? Boh di faccia mi sembrava più in salute prima Adesso mi sembra un po' secco Sì però guarda tipo il petto Vedi sul petto abbiamo fatto un buon lavoro Secondo me Sulla faccia no Sulla faccia anche secondo me Però vabbè quella è colpa tua Rick Dai noi non c'entravamo nulla La faccia non ti abbiamo fatta dimagrire noi Adesso abbiamo Laura Ciao Laura Ha un appuntamento al buio No Però non va bene Non è che si dimagrisce solo per gli appuntamenti Si deve dimagrire per se stessi Non fare lezioni d'amore Per stare bene Capito? Non va bene Non provare a fare lezioni d'amore adesso Non lo possiamo passare Non mi piace questo suo obiettivo No 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 lo devi fare Tu sei un personal trainer Non è che devi pensare chissà cosa Ma io li voglio scegliere i clienti Se no non ha senso Allora Laura è molto particolare Perché se tu noti Vuole migliorare il cardio E i muscoli Mentre per quanto riguarda il peso Si sente a posto con se stessa È magrissima poverina È magrissima Quindi noi adesso dobbiamo fare tanti esercizi In cardio e in muscoli Non dobbiamo appunto fare nulla Per il grasso Allora Proviamo un po' di bicicletta Che non l'abbiamo mai provato Sì ci sta Sono curiosissimo Ma diventa super muscolosa No Io non so girare questa roba Vai Ok 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 Vai 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 Devo anche bilanciare Vedi Ho notato Ho notato Sì Accelero un po' Guarda come è felice Laura Nel mentre di allenarsi Sì è felicissima Non vado l'ora Aiuto Aiuto È difficilissimo Aiuto Ma perdo Ma perdo Ma perdo Sì me lo sento anche io Che sei lì per perdere Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Dai dai stai tenendo Ce la fai Ok Ce la fai Sì sta diventando ancora più piccolo Dai È ho notato Però ce la fai Vai 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 Eh dove devo andare Questo è un allenamento più per te Che per i clienti Io te ne dico Aiutatemi Vai 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 Stai tenendo Sei bravissimo Sei bravissimo Ok ho perso 8 di card in un solo punto Ok E a questo punto quindi siamo a 23 Perché dobbiamo arrivare a 55 Eh tantissima Cioè si deve allenare davvero parecchio Ci sta mettendo in difficoltà Signora Laura Guarda ci sta mettendo in difficoltà Facciamo un po' di muscoli Per vedere invece qua Come siamo messi Se in forma o meno Allora proviamo questo Allora devo tenere premuto E poi mollare Vedi Così Ah è basta Sì Devi mollare al momento giusto Altrimenti lo porti troppo in alto Capito Ok Sto facendo tutti perfect Io non so neanche come sto facendo Vedi forse in questo sei portato Sei portato a far fare i pesi Vedi Sì sì No sta diventando sempre più stretto È ovvio E vabbè ma Ma vabbè Tra un po' non si vede più Neanche si vede Ecco Non ce l'ha fatta più Ecco qua Sette in una sola volta Anche qua 37 di 45 Allora per fare i muscoli È relativamente semplice Per fare il cardio Siamo in pericolo Perché non so se si è notato Che abbiamo solo 6 di energia Hai visto Eh sì E quindi io ho paura Che ci facciano guardare Qualche pubblicità Se non ce la facciamo Io non ne voglio guardare Pubblicità oggi Mi sono proprio svegliato Al mattino Ho detto Oggi non voglio vedere pubblicità Io sono il trainer Che per allenare Deve vedere le pubblicità Esatto Perché devi essere informato Sui nuovi trend Su cosa consigliare I tuoi allievi Vedi vedi Stai sul pezzo Sì io sono sempre tutto Allora facciamo di nuovo Un po' di corsa Vediamo come ce la caviamo Con la corsa Forza Laura Con quelle gambe Le muova 1 2 1 2 1 2 Saltare Ballare Muoversi Fare giravolte Corri 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 Ok adesso possiamo scendere un po' Brava Tieni bilanciato Adesso colpetti 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 Ok Bilancia ancora colpetti Se si stringe ancora è impossibile Si sta stringendo tantissimo Eh vabbè 8 8 8 Non male Siamo a 31 di 55 Quindi ne mancano Mamma mia 24 Non ce la faremo mai 8 16 24 Con 3 di energia Possiamo a malapena finire il cardio Se vado sempre così bene Eeeh E dura E dura la vita dei personal trainer Ci toccherà guardare una pubblicità Ma per ora facciamo un po' di muscoli Quale faccio? Quello da 2 o quello da 1? Dai facciamo quello da 2 Che era divertentissimo Per alternare un pochettino ci sta Questo è troppo divertente Vai siamo pronti a Just Dance Opla Ma quanto sta andando bene? Sta andando benissimo No da appena l'ho detto Sbagliato No da Mi sono portato Perché parli? Perché parli? Più 14 Di muscoli Io non voglio aggiungere altro Allora Secondo me sei più sudato Più tu Di lei Non è vero Sto bene Sto benissimo È stata una faticazione Incredibile Ha trovato Ha detto che ha appena trovato L'amore Con il suo appuntamento E vedi? Ah no Non è vero Dice Che sicuramente Lo amerà Lo aderrerà Perché appunto L'abbiamo messo E dicendo fesserie Non è vero No 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 L'ha detto Laura Guarda Prima e dopo Posso dire una cosa? A me piaceva più prima Cioè è uguale Le sono crescite solo le pop Non è vero Anche le braccia È identica Guarda le braccia e le gambe Ma scusa Parla appolutamente Le crescono solo le pop Non ti dice Solo le gambe e le braccia Ok? Su faccia da brava È terribile Mi ha detto che era un gioco bello Questo Capito? No 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 Non ascoltate Ferinichi Non ascoltate Ferinichi Sai cosa ti dico? Sì Che adesso fai tu Lucas? Non me ne frega nulla Guarda addirittura una persona Che vuole diventare famosa Quindi Questo è un compito difficile Luca secondo me non lo diventerai Te lo dico già Non ti voglio illudere Voglio dirti la verità Vuole perdere 33 chili 33 chili E hai solo una pubblicità Perché ne ho sprecato due Te lo dico già Giusto per Allora me le compri l'energia No sai che facciamo? Me la compri? Le regaliamo un gadget Cosa vuol dire? Allora Praticamente noi possiamo aumentare il peso che perde Ok Tu gli compri il braccialetto E lui perde più peso 40% in più di peso che perde Quando fai gli esercizi Ma con cosa l'hai comprato? Con i soldini che abbiamo in alto a destra Fai gli soldini ogni volta che fai una persona Ottimo Quindi adesso perde più peso Esatto Quindi parti dal peso Allora Prova salto con la corda dai Eh vabbè Ma a me le cose più difficili Ma che le cose più difficili? Mi vuoi far fallire a posta? È un esercizio qualsiasi Oddio Che cos'è? Devi saltare quando c'è la corda Vai clicca Ok Ok Salta Bravissima Salta Bravissima Salta Salta Sì ma hai sprecato uno di energia nel mentre Brava 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 Bravissima Sì 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 Li sto prendendo Sì sì Sei giusta Non so se li sto prendendo Con calma Con calma Con calma Non pensare troppo al tempo Pensa solo ad andare con calma Bravissima Bravissima Eh ma vanno veloci Non è che ci penso io No se tu ogni volta che clicchi scatta di uno E non è che vada solo Cavolo Cavolo Ma solo meno sette Lucas guarda mi spiace Io ho assunto questa nuova ragazza Come personal trainer Non è molto brava Però cerca di avere pazienza Adesso facciamo un po' Di cosa è più facile Un po' di cardio La corsa o la bici Io mi sono trovato meglio con la corsa Ok La bici devi rotteare È un po' più complicato Non ho voglia di rotteare Vai devi premere tutti e due a raffica Più veloce È più veloce È più veloce Ah velocissima Sì 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 Vado Adesso cerca di bilanciare Guarda tutto il tempo la barra e bilancia Ok così Vado più lenta Io un po' più in base Cerca di stare sempre al centro Ok Ok per ora tranquilla Cala 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 E come si cala Smettendo di cliccare Ah non mi hai detto Mi hai detto vai veloce Io sono andata veloce Scusa Non provare a cliccare tap to try Stavo già provando Allora lo rifaccio Lucas Che ci vuoi fare Lucas Bisogna pur sempre insegnargli A fare il personal trainer Steph gli tocca Stai zitto sto riandando a correre Ok vai No è difficilissimo Ma vai a correre per davvero Che qua è difficilissimo Mi dia mi dia forza forza No è difficilissimo Lasciatemi in pace Lucas sei bellissimo così Non hai bisogno né di dimagrire Né di prendere peso Tutto quello che vuoi Allora Mi serve un workout Proviamo con la corda Ok Ho due di energia Dopo che ci tocca una pubblicità Concentrati Almeno dieci chili una sola volta Pronti Via Ok Uno Due Tre Bravissimo Salta talmente poco Che non si capisce Quando devi saltare Esatto Per il più mi sta Ho prurito a un occhio Quindi dall'occhio sinistro Non vedo più Chiudilo e fallo solo con un occhio Sto panicando Vedi che è difficile Si è durato pochissimo La corda è terribile La corda è terribile Te l'ho detto Non è colpa mia quindi Proviamo con questo Allora Perfetto così Andiamo Acceleriamo un po' Mi mette un po' di ansia Perché Anche a me Perché si muove in modo strano Hai notato? Esatto E poi lo scattino in avanti Ma strano Quindi non capisci se stai tenendo il ritmo Oppure no Capito? Anche a me ha messo un po' in difficoltà Quindi vedi che la colpa non è solo mia È colpa del gioco Però Colpa degli esercizi Non è Meno nove Cara Dai ci sta Ci sta È già meglio Caro Lucas Ci serve una dieta È l'unico modo Quindi spendiamo 120 per darti 12 di cardio In questo modo col cardio ti basta un esercizio Ok E ho uno di energia per fare 12 di grasso Ok Difficilissimo Questa è una sfida più per te che per Lucas Considera che ne ho fatto nove adesso e te l'ho andato bene Eh sì Esatto Esatto Ok Guardiamo la pubblicità e proviamoci Sei dimagrito anche tu dopo questo video Dopo questa registrazione Dopo queste pubblicità Avrei capito le mani più in forma Ok Sai perché è al naso rosso? Sai perché è al naso rosso? Perché dopo che tu l'hai allenato Sei dovuto sbronzare per dimenticarsi dei tuoi allenamenti terribili Perché l'hai torturato L'hai fatto sentire a disagio E non si sente più il Lucas di una volta adesso Allora mi sa che qui abbiamo fatto due allenamenti diversi In cui tu non c'eri Perché non mi sembra proprio che sia andata in questo modo Sì me l'ha confidato Da personal trainer sai Mi confidano anche le cose I loro segreti Se vuoi ti dico tipo il segreto più importante di Lucas Qual è? Che dentro la barba ha un uccellino Devi stare zitto Perché farli ogni tanto? È vero Perché non stai zitto? È vero E ti limiti a giocare stando zitto Ha un uccellino che si chiama Chip Cioè dovresti fare un canale muto In cui tu giochi e basta E non ha più bocca Ha un uccellino che si chiama Chip Che gli fa sempre compagnia Ok E che gli dà fiducia per allenarsi E comunque quindi ci fermiamo Fateci sapere nei commenti e nel sondaggio Se volete altri giochini di episodio singoli In questo stile Tipo simulazioni di lavori Esce a menze varie E ci fermiamo così Beh ragazzi Dice così Se è giusto Ascettaci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Grazie per la visione!